Buonasera e bentrovati con il nostro telegiornale. E' Mantova, la provincia italiana dove si vive meglio. La città lombarda scalza a Trento, che era in testa alla classifica senza interruzione dal 2011, classifica l'Italia oggi, Università La Sapienza sulla qualità della vita, Trento che ora deve accontentarsi del secondo posto. Un altro nuovo ingresso sul podio è Belluno, terza in salita dall'ottava posizione, un exploit che fa uscire dal podio Pordenone in discesa dal terzo posto dello scorso anno al quarto. Fuori anche Bolzano che passa da seconda a ottava, ultimo posto per la provincia di Crotone. Per quanto riguarda le altre province della nostra regione troviamo Udine al settimo posto, guadagna tre posizioni e poi Gorizia che dal sedicesimo sale all'undicesimo posto, appena fuori dalla top ten. Trieste stabile al cinquantonesimo posto. Nella classifica la più completa che prende in esame in questo settore, 24 indicatori a deludere sono le grandi aree urbane che arretrano tutte rispetto allo scorso anno, d'eccezione di Torino. Nel complesso il nord-est risulta tra le aree che tengono meglio anche in tempi di crisi. Tragedia ieri notte nel locale, la periferia di Udine, al Gallone. Durante l'esibizione del gruppo Abba Show, il chitarrista della band è stato colpito da un malore ed è morto. Il fatto è accaduto dopo le 23, il concerto era in svolgimento da circa un'ora, quando Alberto Bertapelle, 58enne di Ceggia, si è accasciato al suolo improvvisamente al concerto, presente anche un gruppo di infermieri che ha tentato un intervento con il massaggio cardiaco, intervento tuttavia rivelatosi inutile. L'uomo, musicista di fama che ha suonato anche nei concerti di Bertoli, Graziani e altri cantautori, è morto praticamente sotto gli occhi del figlio tecnico delle luci. Un detenuto del carcere di Trieste ha tentato il suicidio, cercando di impiccarsi nella propria cella del reparto isolati, dove era arrestato da poche ore. L'episodio si è verificato venerdì scorso ed è stato reso noto oggi dal segretario dell'UGL di Trieste, Mariano Veninati. Gli agenti penitenziari attratti dalle grida dell'uomo sono intervenuti prima che riuscisse a lasciarsi cadere, liberandolo dal cappio. Il detenuto si è ripreso ed è stato rimesso in libertà dalla magistratura. Non posso che esprimere la mia soddisfazione per l'operato dei colleghi, afferma la segretaria regionale UGL, Polizia Penitenziaria Federica D'Amore. Nonostante le difficoltà quotidiane, anche in questo episodio, non sapono intervenire con prontezza e professionalità. E paura questa mattina a Sella Nevea, nel comune di Chiusaforte, per l'incendio in un appartamento al secondo piano di un edificio. Ad accorgersi di rogo una coppia che abita al piano superiore, che è stata allertata dal crepitio e dal fumo che usciva dalla finestra, fiamme che sono state domate nel giro di un paio d'ore dai vigili del fuoco, dall'istaccamento di Tervisio e dai volontari di Pontebba, che sono intervenuti nel locale fortunatamente non abitato, al momento di proprietà di un uomo residente a Roma. L'ipotesi è quella del guasto elettrico ed escluso il dolo, gravi danni alla cucina e ai soffitti. Anche l'appartamento al piano superiore era stato dichiarato momentaneamente inagibile. Un cavallo imbizzarrito che, fuggito da un maneggio sul Carso Triestino, stava percorrendo la viabilità locale, costituendo un pericolo per la circolazione, è stato fermato e messo in salvo da due agenti della Guardia di Finanza di Prosecco. Un episodio che è avvenuto la scorsa notte sulla strada del comune di Sgonico, i due finanzieri avevano appena lasciato la caserma per un servizio di controllo, quando si sono imbattuti nell'animale, riuscendo a non intimorirlo ulteriormente, si sono affiancati e l'hanno fermato a bordo della strada poco prima che raggiungesse l'incrocio con la trafficata strada provinciale, fino all'arrivo di un addetto del centro ippico. Si chiude oggi alle 20 di Natale la rassegna dedicata alle festività natalizie a Udine, che chiude con un notevole risultato positivo l'anno fioristico di Udine-Gorizia-Fiere. Grande rafflusso nel weekend che ha proposto un programma ricco di incontri, ottimo riscontro per idea golosa con oltre 50 espositori, e successo di critica per Art Fair, che per la prima volta porta in fiera l'arte contemporanea. Un padiglione intero è stato poi dedicato alla rassegna Libri Insieme e oltre 30 le associazioni presenti in fiera per promuovere i prodotti, le esperienze e soprattutto i valori del terzo settore nell'iniziativa di Idea Solidale. Anche se i bilanci si faranno domani, si può già affermare che la formula della manifestazione messa in campo da alcuni anni con un mix tra proposte commerciali, eventi culturali, cibo, iniziative per le famiglie e i bambini e attenzione al volontariato risulta di grande gradimento al pubblico. Testimonianza il fatto, per l'aspetto solidale, che sono andate esaurite tutte le shopping bag che vengono consegnate agli ingressi per facilitare gli acquisti. Soddisfatti tutti i protagonisti della manifestazione, vi è stato un afflusso davvero incessante di visitatori. E atmosfera natalizia anche a Pradamano per questo fine settimana, ci racconta tutto Enrico Stefanel. Nel pomeriggio di sabato a Pradamano è andata in scena la famosa sfilata dei Krampus, storica figura della tradizione alpina. Lo spettacolo è stato seguito da grandi bambini, che al termine dell'esibizione sono scappati inseguiti dai diavoli travestiti. A fare da cornice aggiornata c'è stato anche il mercatino natalizio, con la partecipazione delle scuole cittadine del gruppo scout. Abbiamo intervistato il sindaco di Pradamano Enrico Mossenta. Oggi è stata una giornata fantastica, sta continuando anche molto bene con la presenza dei Krampus che vengono da Bad Bleiberg e da Dellac, direttamente dall'Austria, con i quali noi siamo gemellati. Oggi 130 austriaci sono venuti a trovarci all'interno del nostro mercatino che dura tre giorni e che vede oltre 20-30 espositori presenti sulla nostra piazza. Una giornata fantastica anche con la cornice della piazza e della villa Giacomelli che ha reso sicuramente molto piacevole per le centinaia di persone che sono state presenti questa sera qui a Pradamano. Un momento particolare e sicuramente un'esperienza da ricordare per i bambini. E ora Butrio per la festa della sezione artiglieri locale. Butrio nel cuore e l'amicizia con la Croazia, con l'Austria e con la Slovenia a questa Santa Barbara. Una cerimonia come sempre perfettamente riuscita. Grazie per le sue parole. Quello che vedete oggi è il lavoro di diversi anni che questa associazione con un gruppo di gente qui della comunità e degli artiglieri di Butrio hanno cercato di coinvolgere queste comunità che dopo non è soltanto questa cerimonia qua ma ci sono dei scambi culturali enormi sia della corale sia sportivi che ci frequentiamo da ambo le parti. Questo avviene in un momento particolarmente delicato per quelli che sono gli equilibri delle guerre un po' in tutto il mondo. Questa operazione così di comunità insieme a paesi anche d'oltre confine fa sì che ci sia un interessamento per quello che è un bene comune che è la pace. Il sogno di un'Italia 1984-2004, vent'anni senza mai andare a tempo ritratto di un paese che è l'emblema delle contraddizioni raccontato attraverso storie istantanee e tante canzoni da Andrea Scanzi e Giulio Casale. Spettacolo dato in scena al Giovanni D'Aurine chi ci racconta Ivano Mattiussi. 1984-2004, venti anni per un'analisi di stagione nella quale la generazione dei quarantenni sognava di rivoluzionare l'Italia ed invece ha fallito. Su questo copione Andrea Scanzi, giornalista e scrittore aretino, personaggio eclettico e protagonista di un nuovo teatro canzone che ha saputo conquistare pubblico e critica e Giulio Casale, scrittore, musicista ed attore trevigiano hanno imbastito Il sogno di un'Italia, vent'anni senza andare mai a tempo. Titolo dello spettacolo è andato in scena al teatro nuovo Giovanni D'Aurine quale secondo appuntamento della rassegna Ieri-Oggi, teatro noi, generazioni in dialogo. Dietro ad un sottotitolo dolentemente iannacciano, scrivono i due autori, c'è la politica che non riesce più a generare appartenenza e c'è l'arte, musica, cinema, letteratura e giornalismo che diventano fatalmente politica e dunque forse militanza. Un tempo, ragazzi selvaggi, ma solo nelle canzonacce dei Duran Duran, i quarantenni di oggi sognavano il cambiamento e si sono ritrovati prima Berlusconi e poi Renzi. Volevano la rivoluzione, ma solo nelle t-shirt. Cercavano un nuovo centro di gravità permanente, ma per l'Ignavia o quieto vivere rischiano di avere inguaiato l'Italia. Lo spettacolo si rivolge a chi quegli anni li ha vissuti, ma pure a coloro che oggi hanno 20-30 anni e si battono per un paese migliore. Andrea Scanzi e Giulio Casale, seguendo uno stile che è loro proprio e che intreccia narrazione a momenti musicali e testimonianze iconografiche, iniziano a chiedersi come sia stato possibile sopportare 20 anni di Berlusconi per poi riflettere sull'arrivo di Renzi ed interrogarsi sul motivo per cui in Italia la norma è eccezione e l'anomalia immorale è spesso regola. Amati di senso critico non abbandonano però mai l'idea ed il desiderio di una evoluzione positiva e definitiva sulla scorta delle eccellenze che comunque in Italia non sono mai mancate. Lo sport con un flash sull'Udinese che dopo la sconfitta a Cagliari per 2-1 vede prospettarsi la soluzione del ritiro, così pare appunto dalle intenzioni della società manifestate dal DG Collavino al canale ufficiale. Intanto la graffistudio Tavagnacco nella Serie A femminile invece non sbaglia, quarta vittoria consecutiva, 15 punti in classifica con una gara da recuperare, quella di mercoledì contro il Brescia. Sentiamo dopo la vittoria sul Chieti di ieri il mister Cassia. È stato un buon primo tempo, dopo però abbiamo praticamente mollato decisamente dopo 5 minuti della ripresa dove abbiamo creato un paio di situazioni importanti, lì abbiamo mollato forse dovuto al fatto del campo pesante, un po' anche della partita di mercoledì che ci aspetta Brescia, però abbiamo mollato drasticamente quasi tutta la squadra, quindi è una cosa che a me non è piaciuta per niente. Per fortuna che non abbiamo rischiato più di tanto, però quando molli in questo modo rischi anche magari poi di fare delle figuracce. È chiaro che il campionato a questo punto lo può perdere solo che la Fiorentina, però il Brescia logicamente cercherà di rimontare questa sconfitta, questa brutta sconfitta. È chiaro che loro devono assolutamente giocare per vincere, per mantenere la seconda posizione. Quindi per noi, come ho sempre detto, è importante arrivare il prima possibile alla salvezza. Oggi sono tre punti importanti, anche se può sembrare strano, però la squadra sta giocando, dando tutto. Non si può pretendere, quando hai una rosa di 14-15 giocatori che giocano sempre quelli, è chiaro che su campi pesanti come oggi tu abbia così delle defiance. Sicuramente la testa era già mercoledì. Per noi è tutto, l'informazione torna domani mattina alle 7 con ore 7. Buona serata e grazie per averci seguito. Grazie per aver guardato il video.